davide fammo air selfie però parlato tipo come i poveri tanto un selfie parlato selfie parlato c'è un sole che spacca un qualcosa che tecnicamente si dice un cazzo de caldo si deve andare sul palco che a te ti piace si ti piace però insomma un po di gente che ne sa un po di gente che ne sa un po meno fai te fai un giretto a motoday è andato bene porca miseria molto molto bene abbiamo lavorato tanto e bene è andata così bene che uno della fiera quando ti ha presentato ha detto il podio di davide si si invece vabbè poi c'è stato un piccolo un podio da quattro per il resto adesso c'è aragon lì fa un cazzo di caldo davvero lì fa caldo però dai siamo andati bene lì nei test quindi vediamo in come si mettono le cose però per adesso sta andando tutto bene uomo ducati ufficiale compagno di squadra scomodo perché è uno che insomma ad aragon fra l'altro gli va anche gli dà anche del gas ma molto scomodo però è sicuramente una una cosa buona per me quando hai un pilota che va veramente forte come compagno di squadra è sicuramente quella spinta in più guarda noi siamo fiduciosi tu pure la moto c'è il team c'è quest'anno si lavora tranquilli che hanno da costruire sono di tutto io se non avevi voglia di fare un cazzo non lo dicevi prima che così no ma io no scusa no perché senti queste voci mi sembra no scusa per me comunque va tutto bene è giusto ho detto cose giuste si è una giornata bellissima bellissima stiamo nel minuto e 40 quindi una cosa quasi onesta che la gente non se ne va e tu oggi pomeriggio devi finire il quadro oggi pomeriggio c'è il cavolo che mi aspetta a casa con la cucchiarella che finì il quadro e poi e poi basta poi allenarsi e poi no stamattina lo so allenare quindi va benissimo noi ci vediamo poi moto d'acqua assolutamente così ciao 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 eh